se vede che non vediamo l'ora non dirlo a nessuno ma non mi piace quando fai piaciuto faccio un pezzo canto mi scappa dal cotio dai io non faccio un pezzo calo perché appena c'è il tentabolo per fare delle scelchie delle nostre tessie se non penso senza il stasso ministro non è cista perché... avrete capito Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti.